ZOMBIE APOCALYPS ma non benissimo perchè ho mal di gola e mi salva salta la voce però questo potrebbe essere come più che essere allora grazie a tutti vi auguro una buona serata a tutti e a tutti un prossimo momento pronto e niente sono qua a fare questo video per voi e a dirvi che tra poco tornerò a fare altri video non subito perchè non devo riprendere non posso stare così però nel frattempo farò altri video ma con questa voce perchè così non ne so non ne ho idea veramente guardate però almeno nel frattempo farò un video che mi possa piacere di più di questo non avviscono con questa voce perchè con questa voce non mi piace e spero che a voi possa piacere se l'audio non sente bene alzate più per il resto non saprei perchè è appunto la voce non mi piace quindi mi speriamo che questo video vi abbia trattato in palia fino a pochino di più tutto il resto tutto il resto sono ancora a casa dal posto perchè sono sempre a casa di solito esco di casa oggi in questione sono grave piccola e poi sono un po' un confio un po' 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 spero sperando che poi possano usare questo video questo video tipo di appena questo video vediamo se questo video non può usare un po' un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.